Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton! Attenti al topo! Una corsa da brividi! Cari amici, non immaginate quanto sia bello fare una corsa all'alba nel parco di Topazia! Respirare a pieni polmoni l'aria fresca è il modo migliore per iniziare la giornata, garantito al formaggio! E sapete chi me l'ha insegnato? Spaghetto! Lui adora correre nel parco! Spaghetto è il mio cane e... volete sapere perché l'ho chiamato così? Beh, basta guardarlo per capire! I ciufficandidi della sua pelliccia sono dritti e bianchi! Sembrano proprio spaghetti! Spaghetto! L'ho scelto al canile di Topazia e ci siamo voluti subito bene! Da quando vive con me, appena si sveglia, salta sognoletto, mi lecca il muso e mi porto il guinzaglio! È il suo modo per ricordarmi che una corsa nel parco fa bene a tutti e due! La mattina in cui iniziò la storia che sto per raccontarvi, uscimmo di casa alle sette in punto. Faceva un freddo felino! Ma io ero in forma e tutto mi sembrava perfetto! Almeno finché Spaghetto mi travolse, facendomi inciampare nel guinzaglio. Finì col muso spalmato a terra e strillai. Fa' attenzione! Una prossima volta ti lascerò a casa! Lui scodinzolò e mi diede una leccata delle sue. Impossibile arrabbiarsi con un amico così! Mi rimisi in piedi e ricominciai a correre. La via era tappezzata di manifesti pubblicitari con la scritta «Attenti al topo». L'annuncio riguardava l'apertura di una nuova escape room che sarebbe stata inaugurata quel giorno. Era un gioco molto di moda. Consisteva in una stanza chiusa dalla quale si poteva uscire solo risolvendo una serie di enigmi. Il solito si giocava in squadra. Un dettaglio attirò la mia attenzione. Sui manifesti compariva il nome di Mr. Opticus, il più famoso illusionista dell'Isola dei Topi. L'avevo visto la sera prima nel suo programma alla televisione, Opticus Show. In effetti riusciva a realizzare effetti speciali straordinari. Camminava sull'acqua, si sollevava da terra e faceva uscire fette di formaggio dal suo cilindro. Era un tipo strano. Parlava sempre e solo in rima. Inoltre aveva l'abitudine di apparire e scomparire avvolto in una nuvola di fumo, nella quale brillavano scintille dorate. Sosteneva di essere il più grande illusionista di tutti i tempi. Secondo me esagerava un po'. I miei pensieri furono interrotti da Spaghetto, che si fermò all'improvviso e iniziò a fiutare l'aria tutto intorno. Ormai lo conosco. Così gli dissi. Hai sentito l'odore di un amico a quattro zampe, vero? Ora però non possiamo fermarci. Stiamo andando al parco. Lui mi fissò con i suoi occhioni e guai. Così mi arresi. E va bene. Annusa un po' il marciapiede, ma solo qualche minuto, altrimenti mi raffreddo. Mentre lo aspettavo, correndo sul posto, ne approfittai per leggere meglio i manifesti. In basso c'era l'indirizzo dell'escape room. Si trovava al chilometro 113 sulla collina di Rocca Misteria. Era nella zona industriale, subito dopo l'aeroporto, dove c'era un terreno incolto. Avevo letto su internet che Opticus voleva costruirci il più grande parco dei divertimenti mai realizzato. Tutto dedicato all'illusionismo, con incredibili effetti speciali. Lo avrebbe chiamato Opticus Illusion Park. Ma chissà dove pensava di trovare la cifra per finanziarlo. Stavo riflettendo sulla questione quando Spaghetto iniziò a tirare il guinzaglio, perché voleva ricominciare a correre. Così mi rimesi in moto e raggiungemmo il parco. Entrai nel vialetto e feci qualche giro fra alberi e prati, con il fiato sempre più corto, finché Spaghetto iniziò ad abbaiare. Mi fermai e mi guardai attorno. Non si vedeva l'ombra di un roditore. Eppure Spaghetto si agitava sempre di più. Fu allora che iniziai ad avere una strana sensazione. Mmm, mi pareva di essere spiato. Ma da chi? Oltre a me nel parco non c'era nessuno. Ma quell'inquietudine non mi abbandonava. Forse era per la nebbiolina infida che alleggiava sui prati? Forse per le ombre lunghe proiettate dei primi palli di raggi di sole? O forse per l'espressione enigmatica di Mr. Opticus che non riuscivo a dimenticare. Vicino a me, al margine del prato, c'era solo un cespuglio di pungitopo. Improvvisamente, una voce bisbigliò. Geronimo! Ti devo parlare! Un brivido mi percorse dalla punta dei baffi alla punta della coda. Chi aveva parlato? Che fifa felina! Senza voltarmi, corsi a zampe levate verso casa, mentre Spaghetto abbaiava sempre più freneticamente, puntando un cespuglio di pungitopo in fondo alla strada. Ma perché un cespuglio? Mo? Continuai a correre a più non posso, ma stranamente, ogni volta che mi giravo, c'era un cespuglio nelle vicinanze. Per mille mozzarelle! Non mi ero mai accorto che ci fossero tanti cespugli di pungitopo nel parco di Topazia. Corsi a perdifiato fino a casa mia. Mi girai per controllare. Nessuno mi aveva seguito. Per fortuna ero solo. Tirai un respiro di sollievo. Ce l'avevo fatta. Mentre aprivo la porta, mi voltai un'ultima volta e dietro di me notai solo un cespuglio di pungitopo. Improvvisamente, un pensiero mi attraversò fulminio e cervellino. Vicino al mio ingresso, non avevo mai piantato un cespuglio di pungitopo. I baffi inizierono a frullarmi per la FIFA. Che cosa mi stava accadendo? Apri la porta, baby! Mi sbarrai in casa e sentì una voce fuori dalla porta. Geronimo! 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 Era la voce di prima. Un brivido mi corse di nuovo lungo la coda insieme a una strana sensazione. Io quella voce la conoscevo. Per mille mozzarella. Chi era? La voce continuava. Geronimo! 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 Dai che ti devo parlare! Finalmente capì! Era lei! E ora strillava a squarciagola! Non fare finta di non essere in casa! Dai che ti devo parlare! Devo farti un discorsone! Io? Impallidi? Quella era proprio la voce di Rebella Strong la mia vicina di casa. Abita in via del Borgoratto 9 giusto di fronte a casa mia e sapete di che cosa si occupa, vero? La sua agenzia risolvi problemi si chiama Dillo a Rebella! Ogni volta che la incontro lei si vanta di saper risolvere qualsiasi problema sempre, comunque, dovunque. Pare sia molto brava nel suo lavoro. Davanti a casa sua c'è spesso una lunghissima fila di roditori che aspettano di entrare. Ah, dimenticavo! Ha l'abitudine di chiamarmi a ogni ora del giorno e della notte e tutte le volte pretende che io abbandoni quello che sto facendo per accompagnarla nelle sue missioni impossibili. Anche quel mattino continuava a insistere con la sua voce squillante. So che ci sei, pasticcino! Ti ho seguito fino a casa dal parco! Mi affacciai cauto alla finestra ma lei urlò imperiosa. Ti ho visto! Apri la porta, baby! Alla faccia del formaggio! Non le sfuggiva proprio niente come al solito! Feci cenno a spaghetto di tacere e lui capì al volo. Si appiattì sulla porta accanto a me con la coda tra le zampe. tentai di sbirciare attraverso lo spioncino ma un enorme occhio verde mi fissò e Rebella gridò soddisfatta. Beccato! Apri dai che ti devo parlare! Io mi appiattì ancora di più contro la porta col fiato sospeso pensando non aprirò non aprirò non aprirò questa volta non voglio avere guai proprio no! Eh sì perché ve lo devo dire cari amici roditori Rebella Strong sembra nata apposta per complicarmi la vita! Non può sfondare la porta riflettei quindi prima o poi si stancherà e se ne andrà via dovevo solo restare immobile e aspettare con molta pazienza ma lei continuò Dai baby apri e offrimi la colazione ho appetito e non farmi strillare in mezzo alla strada lo so che non vuoi più accompagnarmi nelle mie missioni però oggi è diverso ti devi fidare credimi io sbuffai tra meme avevo proprio ragione Rebella voleva trascinarmi in un'altra delle sue soliti avventure ma questa volta non ci sarei cascato non mi fidavo no 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 lei continuò Dai che devo dirti una cosa terribile è molto urgente un tonfo tremendo coprì la sua voce io mi preoccupai che cosa era successo appoggiai l'orecchio alla porta per sentire meglio ma udì solo delle voci confuse ah è un'emergenza chiamati i soccorsi una roditrice dai capelli rossi a dire il vero molto affascinante è svenuta ha avuto un malore di qualche tipo non so a quale magari un capogiro bisogna soccorrerla fate presto serve aiuto qualcuno bussò alla porta e disse proviamo a chiedere al topo che abita qui vedo che sul citofono c'è scritto Geronimo Stilton qualcun altro aggiunse ma non è quel tipo anzi quel topo che fa lo scrittore e che dirige l'eco del roditore un tipo intervenne intendi dire il Geronimo Stilton group ma certo deve essere lui dai chiediamogli un bicchiere d'acqua non sarà tanto maleducato da rifiutarcelo sarebbe proprio un topo insensibile se non ci aprisse ecco chiamate un'ambulanza poi senti una sirena avvicinarsi a quel punto allungai la zampa verso la maniglia ma esitai conoscevo Rebella non era la prima volta che si faceva aprire da me con l'inganno guardai Spaghetto annusava la porta con aria indagatrice anche lui era perplesso ma qualcuno continuava a bussare toc 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 non c'è nessuno in casa siamo proprio sicuri la cosa che più mi preoccupava era che non sentivo la voce di Rebella poverina chissà che cosa le era successo io sono un gentiltopo non posso negare il mio aiuto a una roditrice in difficoltà così vinsi i miei ultimi dubbi abbassai la maniglia e poi girai la chiave la porta si spalancò io feci un respiro profondo accarezzai Spaghetto e per un attimo chiusi gli occhi in preda un terribile dubbio avevo fatto la scelta giusta una roditrice dai folti capelli rossi davanti a me c'era una roditrice energica e muscolosa che gridò trionfante beccato lo sapevo che eri in casa poi scosse la testa dai folti capelli rossi ci sei cascato di nuovo sei proprio il solito mozzarellino basta lanciare l'esca giusta e abbocchi come un tonnacchio io mormorai ma io ma tu ma loro cioè dove sono tutti gli altri lei ridacchiò quali altri ci sono solo io ancora non riuscivo a crederci ma e ma l'ambulanza lei sghignazzò sempre io non ti ricordi che sono la migliore imitatrice di tutta l'isola dei topi balbettai confuso ma 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 io temevo che tu stessi male e lei sbuffò male io sono in gran forma mostrò il braccio a proposito visto che muscoli baby tu invece dovresti fare un po' di sollevamento pesi pasticcino poi mi chiese in tono accusatore perché non mi voli di aprire io protestai magari perché mi hai inseguito travestita da cespuglio di pungitopo rischiando di farmi venire un coccolone per la fifa lei ridacchiò sfacciata dai che ti ha fatto bene un po' di adrenalina non ti ho mai visto correre così veloce sai poi mi ordinò pasticcino fatti più in là che ti devo parlare devo farti un discorsone mentre cercavo una scusa per liquidarla lei balzò in casa mia con un sorrisetto furbetto mi fece lo sgambetto e zac io rotolai oltre la soglia e lei fulminia mi chiuse fuori gridai squit aprimi aprimi subito lei ridacchiò vedi che cosa si prova a trovarsi la porta davanti al muso ma io non sono come te io sono sensibile riaprì e disse entra dai vedi come sono buona che faccia tosta quella era casa mia saltellò verso il mio divano e ci si sprofondò come se niente fosse mentre spaghetto le correva dietro scodinzolando lui adora rebella lei trillò ehi enorme valanga di pelo guarda che cosa ho qui per te tirò fuori dalla tasca un mega biscottone a forma di osso e il mio cane le saltò in grembo travolgendola mentre spaghetto si sbaffava il biscotto rebella si rivolse a me di un po pasticcino non sei curioso di sapere perché sono qui io sbuffai assolutamente no beh te lo dico lo stesso sono qui perché mi è successa una cosa strana e ho bisogno che qualcuno mi accompagni per capire meglio un paio di cosette insomma mi servi tu io sbottai ti serve qualcuno che ti accompagni ma perché non ti cerchi un assistente lei sogginò con aria furbetta e mi disse innanzitutto un assistente dovrei pagarlo poi tu sei belloccio e non mi dispiace girare con un sorcio decorativo al fianco in certi ambienti fai colpo sei un intellettuale io cercai di ribattere ma lei continuò anche se nei tuoi migliori momenti sei come me in quelli peggiori mi fa comodo babbeottino con uno come te vicino mi intrufolo meglio anche tua sorella è d'accordo che tu mi faccia da assistente pasticcino io protestai per cortesia non chiamarmi babbeottino e non chiamarmi pasticcino insomma non chiamarmi e basta eppure pasticcino è un nome così tenero mi pizzicò la guancia poi mi piazzò sotto il muso qualcosa che emanava un tanfo tremendo e gridò tada vuoi un cupcake ne ho appena preparato uno ricetta sperimentale all'aglio candito me l'ha passata tuo cugino trappola prima o poi apriremo un ristorante insieme che ne pensi io non riuscii a rispondere quella puzza di aglio mi dava il capogiro persino il povero spaghetto barcollava per il tanfo Rebella sbuffò non siete dei buongustai vedo tiro fuori dalla borsa un altro cupcake e se lo sbuffò alla velocità della luce masticando rumorosamente si lecò i baffi e cominciò a dire con aria da intenditrice buono ma non buonissimo saporito ma non saporitissimo originale ma non originalissimo scossi la testa con disappunto e poi annunciò la prossima volta proverò a caramellare l'aglio anziché candirlo che ne pensi baby io mi sentivo mancare non saprei spaghetto si era ripreso ma guaiva ancora intontito lei però era pronta a partire con il discorsone si vedeva che era carica come una molla mi acchiappò per il braccio per evitare che scappassi e cominciò a sfinirmi con le sue chiacchiere Geronimo qui c'è un problema grosso soprattutto c'è in ballo la promessa che ho fatto a un amico al sentire che si trattava di una cosa seria cioè di una promessa fatta a un amico decisi di ascoltare con attenzione così le chiesi un amico dici ma chi lo conosco per caso rebella rapidissima tirò fuori il suo telefono e digitò qualcosa poi mi mostrò la foto di un giovane roditore eccolo è lui cioè Junior Topor il più famoso enigmista dell'isola dei topi tu ovviamente non lo conosci è roba per giovani questa non per un fossile come te l'enigma del cubo d'argento per mille mozzarelle per una volta potevo essere io a stupire rebella la guardai con superiorità e le dissi Junior Topor lo conosco e come è seguito da migliaia anzi milioni di roditori che sono interessati agli enigmi e ai misteri lui è il massimo esperto del momento la mia amica mi guardò sbalordita e io continuai so anche come si chiama il suo canale social Topor mistero vero le sorrisi orgoglioso ma lei mi pizzicò un orecchio è bravo allora sei aggiornato eh anche se sembri mummificato nei tuoi librettini da intellettualino anche se pare che tu abbia la muffa ai baffi sotto sotto molto sotto direi sei avanti eh io ribattei certo che sono aggiornato se proprio vuoi saperlo in questi giorni stavo per chiamare Junior per chiedergli di collaborare con me al Geronimo Stilton Group sono convinto che sarebbe perfetto per un progetto legato all'enigmistica lei proseguì vabbè ammetto che sembri preparato una volta tanto ma adesso sturati le orecchie e ascolta bene abbassò la voce come se mi stesse facendo una confidenza e attaccò la scorsa notte a mezzanotte il mio telefono è squillato tre volte e a chiamarmi era proprio lui Junior Topor io sbuffai e che cosa c'è di strano? Rebella scattò la cosa strana è che Junior ha tentato ben tre volte di telefonarmi ma non c'è riuscito era come se chiamasse da un posto dove non c'era campo io la guardai perplesso ma lei continuò dopo diversi tentativi Junior mi ha inviato un messaggio vocale ma non si capiva quasi nulla la sua voce era coperta da un ticchettio fortissimo e le parole rimbombavano come se lui fosse in un ambiente chiuso il messaggio mi ha messo molto in ansia non scherzo baby aspetta che te lo faccio ascoltare così ti rendi conto senti un po' premette un tasto sul suo cellulare e una voce iniziò a dire la mia amica scosse la testa e disse hai sentito? quello che mi preoccupa di più è l'ultima parola iuto secondo me Junior è nei guai non credi? io rabbrividi se volevi spaventarmi ci sei riuscita lei continuò preoccupata le uniche parole comprensibili sono Escape Room mi guardò con superiorità e disse scommetto che non sai che cosa sia vero? io sbuffai e invece lo so ecco è un gioco che va molto di moda a topazia mister Opticus ha appena costruito una Escape Room e la inaugura oggi si trova nel terreno dietro l'aeroporto al chilometro 113 sulla collina di Rocca Misteria Rebella ridacchiò tirandomi un piffo sul naso è bravo il mio pasticcino migliori a vista d'occhio si vede che mi frequenti poi torno seria comunque questa notte dopo aver ricevuto il messaggio sono corsa subito a casa di Junior io chiesi ma come hai fatto a entrare? lei mi mostrò un mazzo di chiavi è il mio migliore amico ho le chiavi di casa sua ovvio e c'è una pausa effetto e continuò ho controllato subito le telecamere dell'impianto di sicurezza ho visto che Junior si è comportato come al solito ha cenato alle 8 e si è chiuso in camera su alle 9 per lavorare al computer come sempre sollevò un dito per attirare la mia attenzione alle 10 però ha ricevuto una telefonata ma non so da chi poco dopo hanno suonato alla porta lui è andato ad aprire e sai che cosa ha trovato sullo zerbino? io sbuffai ovviamente no non lo so come potrei saperlo? Rebella annunciò con tono misterioso davanti alla porta di casa sua Junior ha trovato questo e così dicendo mi porse uno strano cubo d'argento che mandava riflessi luccicanti io lo girai e lo rigirai tra le zampe finché notai un pulsante con un punto interrogativo lei riprese il cubo e lo premette una voce spettrale cominciò a dire questo è un invito speciale per un topo che non ha uguale sei stato selezionato per essere il primo invitato in una nuova attrazione dedicata all'illusione l'opera di un illusionista il migliore che esista ma non lo dire proprio a nessuno questo invito è solo per uno è una sfida per un esperto il cui valore sono certo Junior Topor Rebella concluse capisci Junior ha ricevuto questo invito a visitare una nuova misteriosa attrazione ed è corso fuori per andarci subito di certo si tratta dell'escape room di mister opticus allora pasticcino vieni con me per cercare di capire che cosa è successo al mio amico io riflettei e le chiesi posso rivedere la sua foto per favore Rebella mi tese il suo cellulare e io osservai attentamente il giovane Junior Topor aveva la pelliccia color nocciola grandi orecchie occhi dallo sguardo simpatico e occhialetti da intellettuale indossava una felpa su cui campeggiava la scritta Topor mistero vero e dallo zainetto sbucava uno skate era proprio un tipo misterioso sospirai e dissi Rebella come posso dirti di no sono pronto ad accompagnarti quando si parte lei puntò il dito contro il mio petto e mi abbracciò lo sapevo che qui dentro batte un cuore dolce come lo zucchero tenero come il mascarpone speciale come un cupcake alla panna montata parola di Rebella Strong mi strizzò l'occhio dirigendosi verso la cucina e annunciò partiremo dopo aver fatto colazione sono già le nove sai mai iniziare la giornata senza una botta di energia ti preparo qualcosina di adatto lascia fare a me iniziò a spadellare aprendo tutti i cassetti come se fosse a casa sua finché sul tavolo apparve una meravigliosa colazione tè fumante succhi di frutto vitaminici uova cucinate in tutti i modi biscottini vari latte e yogurt ma anche una mega ciotolona di crocantini per spaghetto devo ammettere che Rebella è proprio speciale qualunque cosa si metta in testa la fa sempre bene perché ci mette il cuore non appena finimmo di mangiare lei mi disse ora diamoci da fare pasticcino risolveremo il caso in un battibaleno me lo sento portiamo con noi spaghetto potrebbe esserci utile io però non ero d'accordo non mi sembrava prudente accarezzai il mio cagnolone e gli dissi meglio che tu rimanga a casa fa la guardia finché torniamo lui guai tristemente e mi fissò malinconico mentre Rebella si era già precipitata fuori urlando sbrigati pasticcino non c'è tempo da perdere io cercai di capire se c'era qualcosa che potesse servirci nelle indagini ma lei di nuovo strillò a squarciagola dai pasticcino muoviti ogni minuto è prezioso allora infilai la porta e in un balzo salì a bordo della sua moto Rebella ha una moto green a energia elettrica di cui va molto fiera mi allungò il casco e mi raccomandò allaccetelo stretto baby si parte io la supplicai per piacere guida piano non sopporto come fai le curve ma lei aveva già acceso il motore e in un attimo ci ritrovammo nel traffico il brillocco scomparso Rebella guidava guizzando veloce per le vie di topazia che si stavano affollando di roditori diretti al lavoro attraverso l'interfono che metteva in comunicazione i due caschi le chiesi prima di dirigerti a Rocca Misteria potresti accompagnarmi in ufficio all'eco del roditore volevo controllare se ci fossero affari urgenti da sbrigare da quando l'eco del roditore è entrato a far parte del Geronimo Stilton Group il mio lavoro si è triplicato Rebella fece un'inversione a U e io chiusi gli occhi proprio non reggevo la sua guida sportiva dopo pochi secondi inchiodò e io le chiesi stupito siamo già arrivati? non mi sembra lei spense la moto mi fece segno di aspettarla e spiegò c'è una volante della polizia all'imbocco della strada che porta al castello Snobacchiottis il mio intuito mi dice che è successo qualcosa di grosso aspettami qui prima che potessi replicare lei era già schizzata via era impossibile fermarla dopo qualche minuto era di nuovo da me e aveva già acceso il motore mentre la moto sfrecciava mi raccontò che cosa aveva scoperto furto da maestri baby la contessa Snobacchiottis ieri sera è apparsa in tv indossava uno dei gioielli di famiglia un brillocco grande come un uovo non so se mi spiego confermai la noce di luce il pezzo più bello della sua collezione confermo l'aveva ieri l'ho vista era l'ospite d'onore nella trasmissione di mister Opticus lei ribatté ma bravo il mio pasticcino oggi non finisci di stupirmi e sai che bella sorpresina ha trovato la contessa al suo risveglio il gingillo era sparito al suo posto il ladro le ha lasciato un gioiello di plastica che spiritosone vero? io so balzai ma com'è potuto succedere? non si sa la polizia sta ispezionando il palazzo ma non ci sono tracce di scasso strano vero? sembra un furto perfetto con tanto di effetti speciali e un pizzico di mistero un lavoro da professionisti proprio in quel momento parcheggiamo davanti al Geronimo Stilton Group e io scesi al volo dalla moto faccio in un attimo mi precipitai dentro e andai a sbattere contro mia sorella Thea Geronimo c'è un bel po' di lavoro da sbrigare dove ti hai ricacciato? mi spiace ho avuto una visita sorpresa e non posso fermarmi devo aiutare un'amica ti sono urgenze? lei mi rispose il giornale la radio il canale web e la tv stanno coprendo la notizia del furto snobbacchiottis hai saputo? sì certo un colpo da maestro io però ora non me ne posso occupare le spiegai tutto e appena seppe che stavo accompagnando Rebella ad aiutare un roditore in pericolo mi incitò a partire vai pure penso io a sistemare tutto qui fatemi sapere come vanno le cose e se avete bisogno di aiuto chiamate rinforzi ringraziai mia sorella e risali sulla moto dove mi aspettava Rebella si parte per Roccamisteria mentre guidava Rebella mi chiese baby come vai a indovinelli? io borbottai ma me la cavo per risolvere gli enigmi dell'escape room non basterà cavarsela dovremo essere dei draghi dai che ci alleniamo così iniziò a sottopormi indovinelli a raffica per farmi migliorare per mille mozzarella che incubo la moto ballava su e giù sull'asfalto attorno a noi i camion sfrecciavano rombando le auto ci superavano strombazzando e la coda mi tremava per la fifa ma Rebella insisteva implacabile prova questo baby che cosa passa attraverso il vetro senza romperlo? io ci pensai su è facile la luce ma lei già mi incalzava di nuovo pronto per l'escape room? hai i neuroni del cervellino in forma? dai ancora un po' di esercizio giusto per scaldarti le meningi ci sei? io feci segno di sì e lei iniziò che cosa entra solo se le giri la testa? che cosa è sempre cotta e grigia ma non può essere mangiata e cruda non esiste? che cosa ha la corona ma non è re ha gli speroni ma non è cavaliere? io strillai basta non posso essere così veloce devo pensarci ma lei scoppiò a ridere questo è niente pasticcino ora passiamo agli enigmi matematici così verificherò quanto è intelligentino il mio vicino provai a fermarla ma fu tutto inutile era un fiume in piena come uno schiacciassassi continuò il signor Topazzi ha quattro figlie ogni figlia ha un fratello quanti figli ha in totale? il numero delle uova dentro un paniere raddoppia ogni minuto il paniere pieno dopo un'ora dopo quanti minuti era pieno a metà? un cavallo compie a ogni passo un mezzo metro quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro? io avevo la testa che scoppiava tentai di rispondere frastornato dalle sue domande ma proprio non ce la facevo dai 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 non ci dormire sopra guarda che appena entrati avremo solo un'ora per risolvere tutti gli enigmi e trovare l'uscita allora mi concentrai ecco le risposte ai tre indovinelli primo la vite secondo la cenere terzo il gallo ed ecco le risposte agli enigmi matematici il signor Topazzi ha quattro figli e un figlio che è il fratello di tutte le sorelle il paniere delle uova è pieno a metà non dopo 30 minuti come potrebbe sembrare a prima vista ma dopo 59 minuti il cavallo fa 4.000 passi per percorrere un chilometro e non 2.000 come potrebbe parere a prima vista contando anche le gambe posteriori infatti bisogna raddoppiare lei ridacchiò soddisfatta guarda guarda il mio vicino pasticcino sta proprio migliorando se continui così non ti riconosco più è bravo baby attraversammo la città ed era quasi mezzogiorno quando finalmente avvistammo la collina di Rocca Misteria mi toccò sopportare ancora un bel po' di zig zag finché Rebella frenò di colpo in un vasto terreno incolto c'era un grande cartello che diceva qui sorgerà a breve il più grande parco dei divertimenti magici del mondo l'Opticus Illusion Park creazione di Mr. Opticus il più grande illusionista di tutti i tempi eravamo arrivati un castello tutto nero parcheggiamo la moto e ci guardiamo attorno poco più avanti c'era uno strano edificio dall'aria lugubre era simile a un castello in miniatura ma era tutto nero aveva guglie appuntite diverse torri e persino un portone di legno sormontato da un gigantesco orologione di ottone luccicante Rebella mi fece l'occhiolino e disse sei pronto baby ti voglio sveglio e reattivo ok la dentro potrebbe essere intrappolato junior dai che ci divertiamo si avviò a passo deciso era fresca come una rosa ma come faceva ad avere tutta quell'energia io avevo il sottocoda che mi faceva male per tutti i sobbalzi della moto e la seguì a passo incerto tra l'altro non mi sentivo tranquillo quel luogo mi metteva l'ansia lei però mi disse non vedo l'ora di trovarmelo davanti questo mister sì insomma lui questo Optimus secondo me deve essere un tipacchio niente male nel suo genere si intende? io la corressi mi risulta che si chiami Opticus se non vado se non vado errato Rebella rise giusto pasticcino l'ho detto apposta sai per metterti alla prova ma oggi stai superando te stesso bravino così mi piaci proprio in quel momento si levò una folata di vento e fumo avvolti da un polverone per un attimo non vedi più nulla e senti che qualcosa di umido mi leccava le orecchie mi misi a strillare aiuto ma due zampone mi saltarono addosso travolgendomi come un uragano Rebella trillò felice spaghetto balanga di pelo che cosa ci fai qui? ci hai seguiti eh? bravo il mio spaghetto non ti arrendi mai proprio come me io ero sbalordito spaghetto ma che ci fai qui? e come hai fatto ad aprire la porta di casa? Rebella scosse la testa baby non è lui che l'ha aperta scommetto che sei stato tua a non chiuderla arrossì e mormorai forse nella fretta mi sa che non l'ho accostata bene lei sbuffò appunto probabilmente è rimasta succhiusa e lui ci ha seguiti ma meglio così ci aiuterà nelle indagini vero spaghetto? lui abbaiò saltellando davanti all'escape room per far vedere che era pronto a tutto Rebella allora si avvicinò a una torre del castello e batte un dito sul muro ma guarda un po' questa non è pietra ma carta pesta sulla facciata principale un'insegna diceva minacciosa escape room attenti al topo entrate a vostro rischio e pericolo noi però non ci facciamo scoraggiare raggiungemo la porta dove ci attendeva un'altra sorpresa c'era infatti appeso un cartello con la scritta fuori uso io mormorai se è fuori uso vuol dire che non si può entrare quindi ritorniamo un'altra volta Rebella ormai è ora di pranzo perché non facciamo uno spuntino ma lei soghignò fifa è mozzarellino ti piacerebbe tornartene a casina a farti un tramezzino a leggerti un bel librettino davanti al camino nella tua poltroncina preferita magari in pantofoline io ammisi sì devo ammettere che tornerei a casa volentieri lei strillò e invece no noi siamo qui per una missione quasi impossibile ricordi? dobbiamo salvare Junior e lo salveremo parola di Rebella Strong siamo in ballo e ci tocca ballare mi afferrò e improvvisò un passo di rock and roll schioccando le dita ma mi pestò un piede e i suoi tacchi mi fecero vedere le stelle urlai aia lei scosse la testa non hai proprio il senso del ritmo pasticcino ma quando avremo risolto questa faccenda ti insegnerò io il rock and roll io gridai esasperato non voglio imparare a ballare il rock and roll non ci penso nemmeno come te lo devo dire ma lei era già balzata avanti e stava bussando alla porta nessuno rispose allora riattaccò a bussare questa volta con più forza intanto strillava ehi là c'è nessuno qua dentro eh ci vogliamo divertire nessuno rispose neanche stavolta allora lei urlò ancora più forte aprite dai che vi devo parlare quando Rebella voleva ottenere qualcosa sapeva come essere insistente così all'ennesimo strillo finalmente dall'altra parte udimo una chiave girare nella serratura prima ancora di vedere chi fosse venuto ad aprirci Rebella attaccò disinvolta ma ciao è aperta l'escape room fateci entrare dai che ci vogliamo divertire io e il mio ragazzo io sussurrai chi sarebbe il tuo ragazzo ma lei mi prese a braccetto come se fossi la sua proprietà privata privatissima e gorgheggiò giuliva dai possiamo entrare noi siamo appassionati di enigmi vero pasticcino pensa di darmi un bacino invece mi minacciò sottovoce di qualcosa baby o capiranno che è tutta una messa in scena dai che dobbiamo entrare a ogni costo capito io allora esclamai oh sì non vedo l'ora di provare l'escape room questa notte non ho chiuso occhio all'idea chissà che divertimento chissà che spasso chissà chi lei mi tirò una gomitata non strafare adesso finalmente sulla soglia apparve un roditore alto e segaligno avvolto in un mantello nero lo riconobbi subito era mister opticus iniziò a parlare in rima come era suo solito sono spiacente non se ne fa niente sto per mangiare non si può entrare rebella mi pestò una zampa e sussurrò interessante hai sentito pasticcino l'amico qua sta per mettersi a tavola proprio adesso che l'escape room viene inaugurata forse ha qualcosa da nascondere lui stava per richiudere la porta ma rebella balzò avanti infilò un piede oltre la soglia e si mise a singhiozzare signore questa esperienza era il mio regalo per il mio pasticcino oggi è il suo compleanno non ci dica che non possiamo entrare la prego opticus ripete inutile continuare qui non si può entrare lei mi pestò di nuovo la zampa stavolta la sinistra dai baby datti da fare anche tu piangi insomma io non ero bravo come lei a singhiozzare a comando ma il pestone mi fece venire le lacrime agli occhi per il dolore così non mi fu difficile strillare pietà lei proseguì soddisfatta saremo velocissimi signore siamo esperti di enigmi soprattutto il coso qui il mio ragazzo insomma ci faccio entrare e usciamo in un batter di baffo e siamo pronti a pagare sa opticus sbuffò stizzoso ma guarda un po' ho detto no rebella pensi di non aver capito come ha detto signore ha detto sì senza attendere conferma infilò l'altro piede oltre la soglia e balzò dentro tirandomi con sé una porta si richiuse dietro di noi e ci ritrovammo al buio mentre opticus diceva minaccioso non avete alcuna speranza non uscirete più dalla stanza lo udimo girare la chiave a doppio mandato con una risata agghiacciante l'eco della sua voce risuonò a lungo nel buio poi si spense lentamente io mi girai verso rebella atterrito e le domandai con un filo di voce secondo te ora ci troviamo nell'escape room tu che ne dici? lei sbuffò e dove vuoi che ci troviamo? nella palestra dietro casa mia a fare sollevamento pesi? al club del tennis a fare una partita a quattro sveglia baby riuscì ad accendere la torcia del suo telefono e poi un candelabro che illuminò l'ambiente lanciando bagliori di luce finalmente ci guardammo attorno che strano posto aveva un che di tetro mi venivano i brividi ma non ebbe il tempo di farmi troppe domande perché dall'orologio a cucù appeso a una parete uscì un guffetto di legno che annunciò sessanta minuti alla fine del gioco sbrigatevi manca poco poi l'orologio cominciò a ticchettare con un ritmo incalzante spaghetto abbaiò il guffetto non gli era simpatico si capiva subito la stanza degli enigmi rebella rise finalmente si comincia a giocare vediamo com'è questa escape room io ero terrorizzato ma tu non hai paura neanche un po' mister opticos ci ha chiusi dentro a chiave e lei sbottò ma sei proprio un mozzarella parellino dai datti da fare la guardai perplesso che cosa dovevo fare non ci capivo una crosta lei sospirò e mi disse ti vedo un po' confuso baby non penserai di metterti a giocare vero noi siamo qui per cercare junior ricordatelo tutta la faccenda del compleanno e del fidanzamento è solo una copertura non ti mettere strane idee nel cervellino poi cominciò a girare intorno sollevando tutti gli oggetti per vedere se nascondevano indizi interessanti ma presto il guffetto risbucò dallo sportellino sono passati cinque minuti ma tutti gli enigmi sono ancora insoluti spaghetto gli abbaiò di nuovo ma lui riprese a parlare incurante molti enigmi troverete e solo se li risolverete uscire infine potrete ora il primo vi dirò ma attenti sorci non ripeterò alta e grande sono nata ma invecchiando un po' minuscola diventerò rebella borbotto forse se proviamo a giocare sarà più facile trovare junior lui potrebbe avere fatto lo stesso percorso in effetti era una buona idea riflettiamo un attimo sulle parole del guffetto e poi gridammo insieme è la candela cerchiamola subito io avevo tra le zampe il candelabro così ebbe un'intuizione guardai sotto al piedistallo e trovai il secondo enigma per mangiare vengo comprato ma perché mai vengo mangiato quattro è il numero da ricordare se il gioco volete continuare l'indovinello era più difficile del primo provai a risolverlo ma quel tremendo ticchettio mi metteva agitazione non sapevo che cosa fare così iniziai a cercare a caso rebella mi fulminò fermo lì baby stai andando in ansia e non va bene sai perché perché così il tuo cervellino si annebbia si addormenta va in vacanza quindi ripigliati e torna lucido altrimenti non mi servi la mia amica aveva ragione così smesi di guardarmi attorno feci un bel respiro ripensai alle parole dell'enigma e ebbi un'illuminazione improvvisa forse il piatto rebella batte le mani soddisfatta adesso sì che mi piaci pasticcino vedi che ho fatto bene a portarti con me prendemmo il piatto di ceramica e scoprimmo che sotto c'era scritto il terzo enigma ha quattro gambe ma non può camminare nove è il numero da ricordare rebella riflette ancora poi gridò ho capito è il tavolo corremo a esaminare il tavolo e sotto una delle gambe scritto in piccolo troviamo solo il numero due rebella scatto ho capito baby dobbiamo concentrarci sui numeri quattro nove due ma che cosa serviranno forse per aprire qualcosa corse verso la cassaforte digitò i tre numeri quattro nove due e lo sportello si aprì dentro troviamo una pergamena arrotolata sulla quale era scritto il quarto enigma è lunga ed è stretta del mago ora cercate la magica bacchetta frugammo dappertutto mentre l'orologio continuava a ticchettare i secondi tic toc tic toc era davvero insopportabile e per di più mi ricordava qualcosa lo avevo già sentito ma dove mi concentrai e urlai junior questo ticchettio si sentiva nel messaggio di junior rebella schioccò le dita e disse ottimo baby facciamo progressioni e sai che ti dico mi sono stancata di questo gioco concentriamoci sul motivo per cui siamo qui ritrovare il mio amico io osservai se il ticchettio si sentiva così forte nel messaggio junior deve essere qui vicino ci guardammo attorno e puntammo gli occhi su un grande armadio appoggiato alla parete di fronte a noi rebella disse là mentre riflettevamo sempre con quel ticchettio martellante spaghetto iniziò ad abbaiare puntando il pavimento rebella gli fece una carezza spaghettino cosa c'è? hai trovato qualcosa? dillo a rebella proprio allora abbassai gli occhi e notai sul pavimento il disegno di un enorme labirinto ci mettiamo a risolverlo e troviamo una freccia che indicava un grande specchio ovale appeso a una parete provai a spingerlo e come per magia si aprì un varco verso un'altra stanza rebella esultò bravo il mio intellettualino mi pizzicò affettuosamente i baffi ed entrammo a differenza della sala precedente questa era vuota al centro c'era solo un baule di mogano chiuso a chiave il gufetto di nuovo strillò se con tanta pazienza provate a bussare forse qualcosa potrà risuonare bussamo sul baule per sentire se era vuoto ma udimmo solo un rumore ovattato bussamo alla porta ma niente allora mi venne un'idea forse dovremmo bussare sulle pareti magari junior è stato intrappolato in un nascondiglio secreto rebella si lanciò che genio sei pasticcino ma non montarti la testolina eh quella esperta in enigmi qui sono io cominciamo a battere le mani su tutte le pareti finché si aprì una porta invisibile rebella gridò vai pasticcino vai oggi sei davvero in forma spalancammo la porta ed entrammo in una stanza avvolta nella penombra al centro su un trono antico legato come un salame imbavagliato c'era junior topor le due porte corremo a liberarlo e appena poté parlare lui esclamò rebella sapevo che saresti venuta a salvarmi grazie lei minimizzò dovere amico e poi a dirla tutta se ti abbiamo trovato è merito di geronimo lo conosci anche se non lo diresti a volte riesce a sorprendermi vero baby io e junior ci stringiamo la zampa poi lui ci raccontò come era finito lì sono rinchiuso in questa stanza da ieri notte mister opticus mi ha tirato qui con un invito speciale voleva che testassi per primo la sua nuova escape room se avessi raggiunto l'uscita in tempo record mi avrebbe assunto come consulente enigmistico rebella commentò ha toccato il tuo punto debole eh geronimo sai che junior con la sua aria da innocentino in realtà è molto competitivo mai sfidarlo junior sorrise e proseguì il punto è un altro rebella quando lungo il percorso ho trovato la bacchetta magica mi sono accorto che il cristallo dell'impugnatura brillava troppo allora l'ho esaminato attentamente e rebella fiutò il mistero e lo incalzò e lui proseguì e mi sono accorto che era un diamante anzi il diamante rebella fece un salto no vuoi dire che è la noce di luce la rubata opticus e la nascosta proprio qui nel suo quartier generale quel sorcio è davvero astuto junior a noi proprio così la montata sulla bacchetta magica immaginava che tutti si sarebbero aspettati di trovare oggetti finti e nessuno si sarebbe insospettito non sapeva che io sono appassionato di pietre preziose oltre che di enigmi e poi l'avevo vista poco prima in tv la contessa snobbacchiotti se la indossava durante lo show di opticus io ero sbalordito e chiesi ma poi che cosa hai fatto lui rispose ho nascosto la pietra e ho proseguito come se niente fosse noi lo guardammo ammirati e lui continuò ho cercato di chiamare rebella ma il telefono non funzionava bene quando sono arrivato qui è apparso opticus mi aveva osservato smontare il diamante dalla bacchetta con una delle telecamere a circuito chiuso con cui controlla l'escape room voleva che gli restituissi la noce di luce solo che non aveva visto dove l'avevo nascosta per questo mi ha legato qui rebella gli chiese quel furfante voleva farti parlare eh junior a noi ci ha provato per ore ma non ci è ancora riuscito poi per fortuna qualcuno ha suonato il campanello e lui se n'è andato ad aprire la porta rebella esultò eravamo noi ottimo baby ora dobbiamo solo trovare il modo per uscire di qui pasticcino hai qualche idea io in pallidì cosa 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 non sapete come uscire da questa stanza ma con la vostra esperienza su enigmi e misteri per voi dovrebbe essere uno scherzo o no rebella strello e invece non è uno scherzo caro il mio pasticcino e non aspettarti che rebella ti serva la pappa pronta attiva il cervellino da intellettualino siamo chiusi qui dentro intrappolati da quel furfantino di mister opticus che abbiamo scoperto essere anche un ladro quindi la situazione non è bella neanche un po' proprio allora una voce misteriosa risuonò nella stanza era mister opticus ingenui voi siete se pensate che uscire potrete se ciò che è mio non mi restituirete rinchiusi per sempre voi resterete junior rispose non sottovalutarci opticus e poi sussurrò rivolto a noi mentre ero qui legato ho osservato attentamente questa stanza ci sono due porte chiuse vedete sulla porta d'oro c'è scritto dietro questa porta non c'è l'uscita su quella d'argento invece c'è scritto dietro una di queste due porte c'è l'uscita solo uno dei due cartelli dice la verità l'altro dice una bugia per uscire dobbiamo semplicemente risolvere l'enigma io rabbrividi e vedi che anche Rebella era impallidita anche se come sempre faceva la spavalda tutto qui? beh pensavo peggio aspetta che mi concentro un attimo spaghetto corse ad annusare le due porte ma anche lui appariva perplesso junior restò in silenzio per qualche istante poi esclamò ci sono il cartello sulla porta d'argento dice senza dubbio la verità perché in effetti dietro una delle due porte c'è l'uscita quindi l'altro cartello quello sulla porta d'oro è falso poiché dice che dietro non c'è l'uscita è vero il contrario e cioè che dietro la porta d'oro c'è l'uscita terremoto appena fummo fuori dall'escape room udimmo la voce di opticus che urlava alle nostre spalle cosa vedo non ci credo un rumore di porte che sbattevano dentro l'edificio ci misi in allarme l'illusionista ci stava rincorrendo non poteva assolutamente permettere che fuggissimo con junior e il diamante un attimo dopo in un vortice di fumo e scintille dorate apparve lui mister opticus in pelliccia e baffi era furioso tutto questo grande lavoro era per avere tanto oro mi serviva per il grande parco ma mi avete aspettato al barco forse non tutto è ancora perduto di arrendermi io mi rifiuto alla mia volontà vi farò inchinare perché vi saprò ipnotizzare con la sua voce magnetica cominciò a mormorare voi avete sonno 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 Geronimo Stilton Rebella Strong Junior Topor voi avete sonno sonno a me girava la testa e mi stava venendo una gran voglia di dormire mi accorsi che anche Rebella e Junior barcollavano come se stessero per addormentarsi ma proprio allora una valanga di pelo bianco si abbatté su Mr. Opticus abbaiando era Spaghetto il mio fedele amico lui non si era lasciato ipnotizzare l'illusionista finì lungo disteso mentre Rebella Junior ed io ci svegliamo di colpo Rebella esultò soddisfatta ahà maghetto da strapazzo altro che parco delle illusioni super lusso ti farò mettere in gatta buia e il sole lo vedrai a strisce furfante con un gesto fulminio gli mise le manette ne agganciò una al suo polso e l'altra alla moto beccato ti piacciono le due ruote spero di sì perché ti piloterò io direttamente in prigione vedrai che spasso ciccio Opticus però ci sapeva fare come illusionista alzò in aria le mani e rise non vedo manette sicura che le hai strette Rebella rimase con un palmo di muso fissò le manette dissolversi nel nulla e annaspò ma 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 come hai fatto a liberarti lui sogginò sprezzante l'illusione è il mio talento so questo trucco e altri cento poi ci minacciò di nuovo tenterò ora vi ipnotizzerò così il diamante mi darete e poi tutto dimenticherete come era potente la sua voce mi stava facendo girare la testa un'altra volta sentivo che le palpebre mi si chiudevano ma Rebella furba mi gridò infilati le dita nelle orecchie pasticcino e vedrai che questa voce non ti farà più alcun effetto anche tu Junior svelto noi obbedimmo e funzionò Rebella si voltò verso l'illusionista visto bello i tuoi giochetti d'abracadabra non funzionano ora quando Opticus realizzò che non poteva più controllarci divenne paonazzo dalla rabbia e capì che poteva solo fuggire si avvolse nel mantello di seta nera e cominciò a correre sopra la fontana che c'era accanto all'escape room io gridai impressionato ma allora sa davvero camminare sull'acqua Rebella sbuffò ma che è solo uno dei suoi trucchetti corse dall'altra parte della fontana e fece lo sgambetto a Opticus lui inciampò e cadde col muso in acqua rimbalzando fu evidente allora che nel suo show poggiava i piedi sopra gradini invisibili nascosti sotto la superficie l'illusionista tentò di sollevarsi in aria agganciandosi a fili invisibili che partivano dal tetto del suo castello ma Rebella li scosse e lui cadde a terra tuttavia riuscì a svignarsela correndo verso l'aeroporto di Topazia noi lo seguimmo ma la sua immagine svanì come nebbia al sole avvolta da un vortice di fumo e proprio in quel momento la terra tremò con un grande frastuono una voragine si aprì nel terreno e inghiottì l'escape room con quel finto terremoto Opticus ci aveva ingannato una volta di più il mattino all'oro in bocca erano le sei di mattina di una settimana dopo e stavo dormendo tranquillo nel mio letto quando il campanello della porta suonò all'improvviso Spaghetto cominciò ad abbaiare per mille mozzarella che poteva essere corsi assonnato ad aprire che cosa c'è chi suona all'altra parte della porta udì due voci con citate gridare apri Geronimo svelto abbiamo un ideone dobbiamo parlarti subito capito dobbiamo farti un discorsone li riconobbi subito erano Rebella Strong e Junior Topor lui disse attento Geronimo niente trucchi e niente inganni abbiamo appena infilato un cavo di fibra ottica sotto la tua porta e ti stiamo osservando ridacchiando aggiunse se non ci credi in questo momento indossi un pigiamino con ricamate sopra tante fette di formaggio ha anche la lettera G sul taschino e ai piedi porti delle ciabattine abbinate ma dove le hai trovate Ger? eh il pigiamino cioè il pigiama me l'ha regalato Zia Lipa per il mio compleanno e le ciabattine cioè le ciabatte anche dato che sono molto affezionato a Zia Lipa ma perché volete parlare di queste cose alle sei del mattino? loro due strillarono in coro aprici tonnacchio che ti spieghiamo tutto da quando avevamo risolto il caso del diamante della contessa Snobbacchiottis ero stato così occupato al Geronimo Stilton Group a scrivere articoli rilasciare interviste girare video che non avevo più incontrato i miei amici così feci un cenno a spaghetto di non abbaiare più e aprì la porta dovevano avere un motivo urgente per presentarsi da me a quell'ora non sapevo se essere felice di vederli o preoccupato con Rebella non si sa mai e ora che ci si metteva anche Junior chissà appena dentro mi travolsero abbiamo un'idea geniale per una serie tv fantastica vuoi sapere la trama? un grande illusionista fa giochi di prestigio incredibili e rapisce un giovane geniale enigmista lo imprigiona dentro una tetra escape room finché viene salvato da un'affascinantissima investigatrice io sbottai ma questa è l'avventura che abbiamo appena vissuto loro due ridacchiarono sotto i baffi certo che è la nostra avventura per questo dobbiamo raccontarla sarà un successone qui a Topazia prevediamo già quattro stagioni una campagna pubblicitaria importante e folle di roditori che ci seguiranno adoranti non è quello che hai sempre desiderato? di la verità ah Geronimo che non vedi l'ora di essere famoso io scossi la testa veramente no e comunque adesso vorrei tornare a dormire ho avuto una settimana impegnativa quindi se non vi spiace ne riparliamo un'altra volta Rebella mi strizzò l'occhio e sprofondò nel mio divano capisco la sorpresa baby e so che hai bisogno di tempo per abituarti alle novità ma credimi questa è una grande idea io obiettai di sicuro è un'idea costosa chi produrrà questa serie? ci avete pensato? lei mi guardò soddisfatta sapevo che ci saresti arrivato pasticcino il produttore sarai tu no? per il Geronimo Stilton Group sarà una grande occasione io sprofondai nel divano incapace di rispondere mentre lei stava già rosicchiando tutti i miei cioccolatini appena comprati quelli al mascarpone con i piedi sui miei cuscini ricamati a piccolo punto da zia Lip meno male che non c'era zia Lip a vedere tutto ciò Junior invece stava già scattando foto al mio pigiama per postarlo sul web sotto la voce indovina chi indossa pigiamini gialli con ricamate sopra tante fette di formaggio e le ciabattine abbinate intanto pasticciava sul mio computer facendo ricerche strampalate con la scusa che servivano per lanciare la serie tv mentre rosicchiava i miei cioccolatini favoriti quelli alla mozzarella candita altro regalo di zia Lip mi sembrava di essere in un incubo ma per fortuna spaghetto mi salvò iniziò ad abbaiare prendendo il guinzaglio appeso all'ingresso era ora della nostra corsetta e quando un vero amico chiama non si può deluderlo così corsi a cambiarmi misi alla porta Rebella e Junior e mi preparai per uscire che cosa c'è di meglio di una bella corsa all'aria aperta non c'è modo migliore per iniziare la giornata parola di Stilton Geronimo Stilton Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti